Buon pomeriggio, buonasera, siamo in procinto di iniziare quasi la serata, ma intanto per quest'ora di tramonto vi teniamo con noi con un webinar gratuito. London Teach come sapete da quest'anno scolastico ha deciso di regalarvi questi momenti insieme, mensilmente degli appuntamenti gratuiti che vengono aperti a chiunque sia interessato al tema, senza vincoli, senza richieste, senza nessuna barriera, vi aspettiamo tutti e quindi speriamo di avervi sempre numerosi a questi appuntamenti. Oggi dato che siamo appunto nel mese di gennaio abbiamo giustamente pensato di darvi qualche spunto su quello che è il feedback costruttivo nell'insegnamento dell'inglese. Qui con noi abbiamo la ben conosciuta e già insomma nostra ospite collaboratrice di London Teach e Teacher Melissa di Open Minds, a cui lascio la parola con suo piacere, aprite bene le orecchie, aprite bene gli occhi e a te la parola. Grazie, grazie Francesca. Ciao a tutti, sì sono Melissa, sono Teacher Melissa e oggi parleremo del feedback costruttivo nell'insegnamento dell'inglese. Quindi vado subito a condividere le slide, così iniziamo. Ok, potete vedere le slide? Sì, 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 perfettamente. Perfetto, perfetto. Allora, per chi non mi conosce, sono Melissa, sono una cantante, musicista e insegnante d'inglese, lavoro ad Open Minds e uso un modo di apprendimento multisensoriale che usa tutti i sensi, cerco molto di fare le lezioni solo in inglese, evitare l'uso dell'italiano, cerco di fare attività coinvolgenti e metto sempre un'enfasi sulla pronuncia dell'inglese. Sono anche canadese, non italiana, quindi mi perdonate se sbaglio qualcosa. Allora, oggi parleremo di modi, di diversi modi, un po' l'importanza quando e come fare le correzioni in inglese. Quindi, l'importanza di positività e l'incoraggiamento. Quanto sia importante rafforzare in un modo positivo e non in un modo negativo. Come prima cosa, l'errore in sé è positivo. È essenziale che i bambini non abbiano paura di sbagliare. L'errore non è un peccato, ma una conseguenza naturale del provare. È quasi impossibile parlare una lingua perfettamente, specialmente una seconda lingua. Sbaglieranno, di sicuro, è ovvio, anche noi, e ciò non è una cosa negativa. Vogliamo formare i bambini in un modo che si sentano liberi di commettere gli errori. E' importante vedere gli errori come parte normale del processo dell'imprendimento. Volevo chiedere a voi, questa è una domanda un po' retorica, perché chi di voi parla sempre senza errori. E parlo anche in italiano, non sto parlando dell'inglese, sto parlando dell'italiano. È impossibile, no? È impossibile ogni giorno sempre parlare correttamente. Non ti capita mai di dire una cosa e poi pensare che cosa ho detto, no? L'errore è umano, lo facciamo tutti. La differenza è che in italiano o nella madrelingua abbiamo la conoscenza della lingua per poter dire, ah, che cosa strana che ho detto, di far niente, cioè non è un problema. Invece in un'altra lingua c'è più paura, c'è più, possiamo sentirci anche un po' umiliati dell'errore. Però invece bisogna creare un ambiente che non dia l'impressione della paura, ma invece come parlare è normale. L'incoraggiamento costruisce la fiducia degli studenti, facendoli sentire più sicuri nel parlare e nel sperimentare nuove strutture. Crea un ambiente piacevole e stimolante, gli studenti sono più propensi ad affrontare sfide linguistiche quando sanno di essere incoraggiati. E volevo chiedere a voi, come incoraggiate i vostri studenti? quali sono i modi, anche semplici, parole, quali sono i vostri modi che usate per incoraggiare? Questa è una domanda vera, non retorica, quindi. Sì, Maria Nicoletta? Abbiamo una mano alzata, sì, e allora, prego Maria Nicoletta. Ecco, grazie, pigiavo, mi diceva sempre l'organizzatore, non ti permette di parlare. Mi sentite? No, allora, io insegno alla primaria, ho una classe seconda, ho sempre insegnato inglese, oltre a tante altre discipline. In questo momento sono ancora a scuola, non accendo la videocamera perché ho i videlli che stanno pulendo, non vorrei i primi coinvolgerli nel video. Nessun problema. Tornando alla domanda, fondamentalmente io cerco sempre di buttare la cosa in tono scherzoso e mai colpevolizzandoli, mai criticandoli in maniera eccessiva. faccio notare se c'è l'errore, però dico sempre, da, se all'inizio non ti preoccupare, siamo a scuola tutti per imparare. E a prescindere che sia inglese o un'altra disciplina, faccio sempre il parallelo con gli esercizi di ginnastica, che per imparare a farli ci vuole tanto allenamento. Quindi, così come nella scrittura corsiva che noi italiani abbiamo ci vuole allenamento, allo stesso modo per la pronuncia dell'inglese, per imparare qualsiasi struttura linguistica di una lingua straniera, ci vuole allenamento. E così riusciamo ad essere tutti tranquilli, senza ansia da prestazione. Ah, che bello. Sì, allora sì, questo crea comunque un ambiente positivo, che si tentano di voler provare, perché sanno che alla fine non sarà un problema, non riceveranno un rimprovero o altro. No, infatti, infatti, sono sempre abbastanza intimiditi, si spaventano perché hanno ovviamente paura di sbagliare, come del resto anch'io, pur essendo adulta, sapendo di trovarmi di fronte ad una persona che ne sa più di me, mi sento sempre intimidita. D'imbarazzo un po', sì. D'imbarazzo perché penso, eh, quello è bravo, chissà che cavolato ho detto, che figura che ho fatto. E vedo che questa cosa la rivedo anche nei miei alunni. Sì, ok, grazie Maria Nicoletta. Qualcun altro? Una cosa veloce che usate per... Allora, c'è Romina che ha scritto, sono sempre positiva nei commenti, non uso negazioni, e le mie frasi sono sempre volte all'incoraggiamento. Ok. Poi Stefania scrive, star on their books or a sticker, e vediamo, su Facebook scrivono, Anna Maria scrive, stai facendo bene, continua così. E Elisabetta... Sì, ok, anche... Ok, fantastico. Sì, sì, anche parole semplici... Bravi, good job, great, queste cose fanno molto. Allora, parliamo di quando fare le correzioni. Poi andremo a vedere più altre cose per incoraggiare, però dopo. Quando fai le correzioni? Questo è anche importante, perché ci sono dei momenti inopportuni, come ci sono dei momenti opportuni. Non è sempre opportuno correggere ogni errore. A volte è meglio lasciar perdere certi errori se il bambino riesce comunque a farsi capire. Per esempio, nella conversation, no? Se usano delle forme un po' più complicate e le sbagliano, se comunque riescono a farsi capire, va bene, no? Quindi non andiamo a bloccarli su ogni passo se non è necessario. Vogliamo anche creare uno spazio in cui possono sentirsi liberi di creare, di provare, di anche finire il pensiero. Perché non so se avete questo problema, ma magari quando parlate e qualcuno continua a interrompervi, non riuscite a finire, non riuscite ad andare alla fine della storia, del momento. Ed è la stessa cosa con i bambini. Se ogni tre parole c'è una correzione, c'è qualcosa che blocca, anche loro si bloccano. Quindi a volte è meglio lasciarli parlare e se chiedono qualcosa, ok, in quel momento possiamo dare un aiuto. Però specialmente nei momenti creativi lasciamo un po' di spazio di sbagliare, un po' di spazio per creare. Questo mostra al bambino che è capace di comunicare, perché se blocchiamo ogni cosa poi si sentono ah, io non ce la faccio, io magari inizio con la voce interna, vogliamo evitare quella. Costruire l'automità, il bambino può imparare e pensare criticamente e avere l'opportunità di autocorreggersi, perché non venendo bloccato ha anche il tempo per pensare, magari dice una cosa sbagliata ma continua a parlare e poi dice ah, ma quella cosa che ho detto e poi si autocorregge. A volte c'è bisogno di tempo anche per questo. I momenti opportuni sono i momenti delle attività focalizzate. E' anche importante che nel momento creativo vogliamo magari prendere nota degli errori per poi correggerli dopo. Magari mentre parlano possiamo ah, yes, yes, scrivere delle cose che poi dopo magari facciamo delle attività focalizzate su quelle cose che ha sbagliato, se il problema era sempre usare il present simple correttamente con la S di terza persona, allora facciamo un'attività focalizzata su quello. E così possiamo correggere gli errori indirettamente, riescono a provare la conversation molto più tranquilli, ma i problemi non vanno lasciati. E' importante correggere durante le attività focalizzate e sul vocabolario o grammatica su cui l'attività è basata. Per esempio, se il bambino sta parlando della giornata e vuole aggiungere qualcosa in più, per esempio, I wake up at seven o'clock. No, quello è l'esercizio. I wake up at seven o'clock. Se il bambino vuol dire, dice poi, I wake up at seven o'clock, tired, busy day. Non lo so, dice una cosa così. Non è corretto grammaticamente, però ha aggiunto una cosa in più e questo dovrebbe essere celebrato e non soppresso. quindi facciamo tipo, ah, ok, wow, wow, che job e correggere la cosa, il punto dell'attività. E in questo ovviamente bisogna usare il buon senso perché voi conoscete i vostri bambini, sapete cosa sanno già, cosa non sanno, dove correggere, eccetera. Quindi sempre è importante usare, ok, è il momento giusto o non è il momento giusto. Però anche di chiedersi posso anche non correggere questo perché a volte è importante lasciare andare. Ok. I modi per correggere. è molto importante rispondere con una cosa positiva. Dopo un errore è importante dire great o good try o qualcosa comunque positiva per dire ok, ci hai provato, fantastico. Però ovviamente in inglese quindi great, good try, excellent, wow, perfect, perfect ovviamente se non ci sono errori. Ok, queste cose qua. Fai vedere che hai capito quello che hanno detto anche se non l'hanno detto correttamente prima di correggere. Per esempio se dicono I teddy bear puoi capire no? Ah you've got a teddy bear wow what's your teddy bear's name e poi puoi correggere anche rispondendo ripetendo la cosa che hanno detto loro ma nel modo giusto però è importante far capire che quello che hanno detto comunque sono riusciti a comunicare non era perfettamente corretto ma sono riusciti a comunicare che è la la cosa più importante delle lingue quindi sbagliano ok però poi correggiamo però facendo capire che abbiamo capito ok avete capito sottolinea una cosa che hanno fatto bene prima di indicare l'errore quindi applica la criticism sandwich si chiama che sarebbe tipo il panino no e il pane è una cosa positiva o un complimento quindi si inizia con un complimento wow good job poi la critica horse no pig anzi senza la no però horse pig I've got a pig non so che cosa hanno detto I've got a pig great e poi è importante anche far ripetere la cosa corretta farlo ripetere con un incoraggiamento quindi dopo aver dato la critica e poi la cosa positiva poi chiedi al bambino di ripetere e poi un sorriso un sorriso e il contatto visivo fanno molto perché nel correggere se facciamo le correzioni così ovviamente non non trasmette la la positività se invece siamo solari sorridenti il bambino capisce che è uno è uno spazio sicuro che possono sbagliare va bene tutto va bene e e questo fa molto ok alternative per non focalizzare sullo sbagliato ok è sempre meglio concentrarsi sulla soluzione di un errore che sull'errore stesso quindi non commentiamo su quello che hanno fatto male ma invece diamo la risposta corretta incoraggia l'autocorrezione che è molto importante il bambino dice noi facciamo vedere un un cavallo e il bambino dice it's a mouse noi rispondiamo con it's a mouse il bambino poi ci pensa oh non è un mouse no e prova di nuovo magari riesce a dire it's a horse yes great poi ovviamente il rafforzamento positivo dopo se poi magari non capiscono anche con con questa risposta possiamo aiutarli anche magari facendo la prima lettera della parola se è horse per esempio it's a mouse it's a mouse bambino non capisce it's a e magari il bambino horse horse it's a horse così poi ripeti la frase correttamente dopo che ho detto anche prima se dicono per esempio she like run rispondi con she likes running she likes running ok è la stessa cosa per la pronuncia tipo quindi qualsiasi errore sia grammatica che è sulla pronuncia è abbastanza buono anche solo dare la risposta giusta senza commentare sull'errore su quello che hanno fatto loro eccetera solo diamo la risposta giusta she like run great she likes running she likes running can you repeat she likes running excellent nice così o anche quando quando leggono sulla pronuncia magari leggono una parola non corretta la stessa cosa la diciamo noi non non c'è bisogno di dire no not that one non c'è bisogno di dire che quello che hanno fatto è sbagliato la cosa importante è dare la risposta corretta oppure fai vedere la flashcard con la risposta corretta tipo se stanno parlando di dei vestiti what are you wearing se non sanno t-shirt possiamo far vedere la t-shirt così che hanno uno spunto in più per per ricordarsi della parola giusta ok come evitare parole come no è importante evitare parole che possono scatenare una reazione reazione negativa o creare una paura dell'errore ovviamente non è sempre possibile però cerchiamo il più possibile di evitare magari delle parole che possono bloccare il bambino metterlo in imbarazzo quindi evitiamo no incorrect wrong bad eccetera invece possiamo usare espressioni facciali o parole come almost are you sure try again quindi per esempio quella cosa del mouse ho fatto it's a mouse it's a mouse questo in questo non sto dicendo no it's not a mouse invece sto dicendo sto dando un un come si chiama uno uno spunto una sto cercando di aiutare il bambino di provare di nuovo ok qui c'è un video che non mi sa che non possiamo vedere per una questione di copyright però vi vi faccio vedere soltanto il titolo un attimo lo troverete comunque a disposizione un video di youtube adesso ve lo fa vedere e poi troverete il link diretto sulle slide tra i materiali ok ok quindi c'è questo signore che fa vedere questa tecnica che vi farò vedere da vivo comunque è molto interessante e lo spiega molto bene cercherò io di spiegarlo il meglio possibile però dopo potete tornare qua e vedere esattamente quello che dice lui per avere tutte le informazioni corrette però vi vi faccio vedere un po' quello che fa lui e per farlo devo fare così ok così mi vedete meglio però prima di di farvi vedere vorrei chiedervi se secondo voi i vostri studenti sarebbero in grado di autocorreggersi sulla S sulla S alla terza persona un semplice sì o no così magari facciamo un sondaggio velocemente ok non tutti ovviamente ricordo su facebook che chi vuole può rispondere qua intanto scrivono non tutti non ancora solo alcuni no not everybody ok non ancora ovvio sì ancora pensavo anche questo ancora è presto per i miei sì dipende anche da che età cioè se hanno tipo cinque anni magari due su dieci se sono bravi ok appunto ora che sono in quinta sì non tutti ma in tanti ok 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 quindi vi faccio vedere un metodo che potete usare per incoraggiare l'autocorrezione proprio su su questa potete mettere uff non si vede molto bene comunque è un S potete attaccare la S da qualche parte nella classe scegliete un posto e rimane sempre sempre lì quando i vostri mi dispiace per la S che non si deve fare quando i vostri studenti sbagliano la la terza persona iniziate ad indire questo foglio quindi she she like chocolate semplicemente indicandolo senza dire niente senza spiegare she likes chocolate she likes chocolate ok quindi così magari le prime volte sarà sarà un po' dovreste spiegare ovviamente che che senso ha questa S però è la S della terza persona la mettete sul muro e ogni volta che sbagliano qua poi dopo un po' di tempo vedete un po' voi un mese due mesi il tempo sufficiente poi invece della S mettete un semplice foglio bianco o che colore avete scelto se scegliete un foglio giallo o quello che è però dello stesso tipo la stessa misura lo stesso colore e lo mettete nello stesso posto però senza la S e quando il bambino sbaglia la terza persona potete indicare il foglio che ha lo stesso significato però hanno dopo così tanto tempo dovrebbero ricordarsi della S e dovrebbero autocorreggersi con questo poi dopo un mese due mesi quello che secondo voi sia sufficiente nello stesso spazio nella classe potete indicare il nulla che perché non c'è più il foglio però lo spazio è sempre dedicato a quello e se sbagliano la terza persona indicando qui dovrebbero ricordarselo e dopo un po' di tempo dovrebbero riuscire anche loro di sentire e di fare da soli secondo voi con questo metodo i vostri bambini sarebbero capaci di autocorreggersi ottimo alcuni sì vediamo che su facebook ovviamente dipende un po' anche dal bambino ogni bambino è diverso però dovrebbe essere molto funzionale per tanti she like chocolates eh sì però sì però speriamo solo all'inizio in generale sì ovviamente per alcuni però agevola sì sì ok fantastico comunque provate vedete voi come funziona vorrei chiedere anche se questa strategia strategia potrebbe essere utile anche per altre cose non soltanto la S in terza persona ma altri errori di di questo tipo se avete delle idee una che viene in mente potrebbe essere il saxon genitive no l'apostrofo s quando dicono the bear of jenny ah jenny's bear for plural nouns sì ok vedo un po' sì sì ok fantastico la cosa importante con questo però se usate questo metodo per diversi errori è importante scegliere spazi diversi cioè concentrarsi su uno alla volta per esempio questa cosa della S comunque dura un po' di tempo quando si finisce con la S anche differenti colori però sì sì se mettete una S la S terza persona gialla magari usate il rosso per un altro in un altro spazio nella classe e sì è focalizzare su uno alla volta quindi questa cosa della S per un po' di tempo che diventi una cosa spontanea e poi un altro altrimenti c'è il rischio che si confondano le cose quindi si può usare per altre cose ma sempre non insieme e sui stessi cioè dopo un posto venga scelto bisogna tenere sempre quel posto per quello e poi un altro posto per un altro ok 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 correzioni con con flashcards sì ok ok per esempio quello che ho detto dei vestiti no what are you wearing se non se dicono I've got a jumper però in realtà hanno un t-shirt potete fare a jumper 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 e da da questo se avete fatto il lavoro con le flashcard per il vocabolario per imparare il vocabolario dovrebbero associare il t-shirt all'immagine quindi è un aiuto per per l'autocorrezione è la cosa più importante l'autocorrezione non non dobbiamo essere noi a dare la risposta dovrebbero essere prima i bambini se poi non riescono siamo noi a dare la risposta quindi t-shirt oppure se non se dicono tipo it brown it brown it brown così che non diamo esattamente la risposta ma loro possono vedere la flashcard e dire loro oppure what's the weather what's the weather what's the weather like it's raining ok così e un'altra attività è spot the error quindi potete mettere sulla lavagna delle flashcard delle sentence building flashcards e però metterle non in ordine e chiedere poi ai bambini di di venire davanti alla classe e metterli in ordine per esempio questo qua the horse brown is non è corretto e quindi potete prima iniziare a chiedere prima dovrebbero riuscire a vedere l'errore cioè che ci sia un errore e poi di correggerlo quindi sì però è una cosa fisica a me piacciono le cose fisiche che i bambini possono toccare fare perché diventa una cosa reale quindi con le flashcard ok un'altra attività ok ovviamente tutte queste sono in base a quello che sanno i vostri bambini quello che avete fatto in classe quindi per l'altro per questo qua se avete già fatto gli animali e i colori potete usare questo se invece avete fatto frasi sul tempo sul meteo it's rainy eccetera potete fare una cosa semplice tipo rainy it's oppure le lettere anche scambiare le lettere per esempio questo qua ha tantissimi ha un po' di ha tantissimi errori allora questo si può fare in due modi o altri modi se li trovate voi uno è un gioco di squadra quindi dividete la classe in diverse squadre magari scrivete questa frase prima e la coprite con un poio o qualcosa quando sono in squadra e poi mettete un timer di non lo so dieci minuti dipende quanto sia difficile la frase e togliete il foglio mettete il timer e poi le diverse squadre devono correggere più errori possibili e alla fine la squadra che che corregge più errori è la squadra vincente e questo qua ha tanti errori con la S la S comunque those browns cats run more faster quindi cancelliamo more eccetera oppure possiamo giocare sulla sull'ordine come volete poi un altro un altro gioco su correggere gli errori questo è un gioco di spelling potete scrivere tante parole sempre nel vocabolario che avete studiato con i vostri bambini sulla lavagna e i bambini devono correggere le parole sbagliate la cosa bella su questa è che non tutte le parole dovrebbero essere sbagliate e questo fa che i bambini si chiedano prima ma è corretta o non è corretta quindi prima devono vedere se è corretta se non è corretta poi devono cercare di scriverlo giusto per esempio abbiamo kite e ovviamente non è scritto così kite boat dog cat restaurant food ice knife e è questo e anche con quest'altra attività ho detto che si può fare in squadre ma si può anche fare individualmente chiedendo semplicemente ai bambini di venire a lavagna e fare una per una ovviamente dipende un po' dalle vostre classi se sono capaci di fare i giochi di squadra o no quindi può anche essere un'attività tutti insieme e uno dopo l'altro viene a correggere sulla lavagna ok e questi sono questi sono i miei suggerimenti per correggere gli errori adesso lascio un po' a voi se volete chiedermi qualcosa se volete anche condividere magari i metodi che avete trovato che funzionano nelle vostre classi apro un po' la la danza se volete grazie grazie teacher Melissa allora come prima chi vuole alzare la mano per insomma interagire benvenga su facebook se volete commentare ci sono io a riportare per voi ecco le vostre considerazioni salutiamo chi era andato scusateci abbiamo visto adesso che siete andate via non fate i timidi l'abbiamo detto no veramente volentieri se avete domande curiosità se volete anche condividere un metodo se avete un dubbio di una situazione che vi è successa qualcosa insomma questi webinar servono sono per voi occasioni ecco di confronto quindi siamo pronti per voi se magari mentre pensate un po' a quello di scrivere vorrei solo recapitolare un po' il punto perché c'è dopo aver detto tutto questo la cosa più importante è di di non focalizzare su quello che hanno fatto di sbagliato ma invece di dare modo che i bambini possono correggere loro stessi quindi se diamo un problema che possa succedere quando diamo sempre la correzione subito i bambini poi si aspettano la correzione e non pensano per loro stessi non cercano di correggere quindi è anche controproducente quando diamo la risposta perché ho visto anch'io dei bambini che fanno tipo che sbagliano e basta hanno fatto tutto finito e non interessano neanche di dirlo correttamente perché sanno alla fine che la risposta giusta verrà data e quindi invece di quello dobbiamo cercare di farli impegnare quindi questa è la cosa più importante diciamo e crea anche questo crea anche un ambiente positivo naturalmente che è molto utile per insomma non farli rimanere dopo chiusi nel loro guscio ma anzi sperimentare e provare ora stanno arrivando c'è una proposta creativa sempre sulla S e la terza persona Carmen dice che lei dice ai bambini che chi she e it hanno il mantello di superman e di solito funziona ok la S il mantello che carino esatto esatto e Elena giustamente che scrive per i bambini è molto difficile imparare la struttura della frase anche per gli adulti anche per gli adulti sì poi Rosalia che scrive alcuni esercizi di Hans Campbell pensano molto all'autocorrezione e si divertono vediamo se arrivano sì la struttura poi è molto difficile anche cioè anche da da un punto di vista nostro cioè come ho detto all'inizio gli errori li facciamo anche nelle loro lingue nelle loro gli errori facciamo sì anche nelle nostre lingue quindi è naturale non tutti gli errori sono importanti o gravi quindi va bene uno va bene lasciamo andare vediamo vediamo se arrivano altri commenti o richieste di condividere qualcosa io ricordo che le slide invece le trovate sul nostro sito anzi vi metto i link alla pagina dove trovate così è abbastanza facile si scrive webinar la trovate in alto sul menu del nostro sito di London Teach quindi non dovreste avere difficoltà nel recuperare il materiale altre richieste considerazioni allora propongo io vediamo una domanda Melissa così dato che hai detto che ci sono delle volte che non è detto che un errore debba essere per forza sottolineato ci sono delle volte che si può passare oltre ci sono invece delle situazioni in cui invece bisogna correggere c'è diciamo un ordine di importanza degli errori che proprio proprio bisognerebbe assolutamente correggere perché se no uno dopo sbaglia tutto il resto oppure non se lo dimentica più e altri che invece possiamo insomma vanno in secondo piano secondo te nella tua esperienza ovviamente sì dipende un po' del allora se è un errore che il bambino che lo studente fa spesso e ogni volta che dice quella parola la dice in quel modo o ogni volta che fa quella frase la fa in quel modo e allora lì sì bisogna un po' cioè un po' evidenziare quella cosa non evidenziare ma dare la risposta corretta così che ripetono però per esempio all'inizio dell'elezione c'è sempre un po' di parlare no? how are you? eccetera riscaldamento la io non farei quasi nessuna correzione anche sulle cose molto basiche perché perché secondo me è importante anche per loro capire che anche se sbagliono possono comunicare perché secondo me correggendo sempre crea anche un po' crea il pensiero non ce la faccio e quindi dobbiamo far capire sì ce la fate poi quando facciamo gli esercizi focalizzati là sì ogni errore va corretto però ci sono devono esistere anche quei momenti in cui i bambini possono sbagliare tranquillamente e non non viene corretto ovviamente se non si capisce quello che hanno detto perché era completamente sbagliato in quel in quel caso ma non è non è correggere là è più è conversare anche noi esprimersi sì perché se anche anche noi parliamo in italiano inglese o quello che è e se non siamo chiari l'altra persona chiede no come cosa quindi è normale e così imparano anche che è normale grazie sì grazie allora sono arrivate qualche domanda intanto un gioco se non sbaglio Luca scrive su un esercizio di riconoscimento delle parti del corpo ho montato il disegno del bambino con gli errori di ogni bimbo piede al posto del naso occhi sulle ginocchia e ci sono diventati molto sì questo è bello sì grazie è sempre un piacere vero imparare Elena che scrive per esempio per alcuni argomenti io mostro una flashcard e metto a terra dei cerchi loro devono saltare in quello corretto per esempio in un cerchio metto a e nell'altro a e n oppure singolare plurale si mettono in fila e lo fanno uno alla volta che bello continuo con le proposte dopo vediamo la domanda sopra Loretta invece scrive per la struttura della frase anche forma negativa o positiva lei scrive ogni parola su un foglio a quattro e l'attacca il grembiolino dei bambini se il gruppo chiamato a sistemare correttamente la frase non l'ha fatto correttamente i bambini della frase alzando la mano vengono invitati a spostare l'ordine dei bambini se la frase è negativa o positiva o è una domanda i bambini che hanno una parola che non va usata si abbassano ah che carino questo bello il gruppo che lavora prima di sistemarsi si consulta finita comunque sempre con un applauso perché hanno giocato a fare lingua e sono stati coraggiosi bello bello quante idee stanno venendo prima che perdo perché stanno iniziando a fioccare le vostre idee ritorno sulla domanda prima che la perdo Roberta chiede mi piacerebbe sapere come spiegare ai bambini la differenza tra how do you feel e how are you facciamo un altro webinar no allora in realtà la differenza è tipo quando viene usata perché how do you feel è un po' più è solo un po' più serio no how are you è un è un saluto ciao hi how are you quindi how do you feel I'm happy l'unica cosa è questa che è quando viene utilizzato quindi non so se lo spiegherei invece lo farei vedere in conversazione tipo all'inizio how are you e così si abituano a quando viene usato in un modo anche naturale no ogni volta che entro in classe o faccio una lezione con un bambino chiedo faccio hello how are you quindi capiscono quello ma la risposta alla fine è sempre le risposte a queste domande sono uguali praticamente no how are you I'm sad today how do you feel I'm sad sono molto 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 simili quindi forse how do you feel è parte un po' dall'archista fosse di indagare proprio nel profondo di una persona come sta non superficialmente no come how are you sì oppure se dopo tipo ho vinto ho vinto il gioco no how do you feel quindi I'm happy quindi è l'uso l'utilizzo è quando quando viene utilizzato questo grazie intanto comunico comunicazione e servizio ho messo il link per l'attestato gratuito di oggi vado a vedere le altre proposte allora Alessio scrive io insegno la scuola dell'infanzia abbiamo anche una mano alzata esatto sì è un suono che per i miei bambini della mia sezione ancora difficile da ripetere correttamente è il suono th ad esempio quando contiamo loro dicono free anziché io mostro come metto la mia lingua in mezzo a volte questo funziona ma non li corrego ogni volta per evitare di bloccarli c'è modo per aiutarli ad interiorizzare questo suono sì questo farei un altro webinar ci pensiamo però ci hai dato un buon tema che era spettato il tuo nome Alessia la pronuncia comunque farei farei un esercizio da parte cioè io correggo spesso la anche quando parlano cioè però perché non interrompe troppo cioè anche se dicono tipo thank you no thank you faccio soltanto cioè non c'è bisogno di dire tipo oh wait thank you not thank you thank you quindi non è così grave come correzione quindi già questo si può semplicemente ripetere no fanno thank you e fate o quello che è o e fare un esercizio da parte poi ci ha dato uno spunto per un altro tema vado sulla mano alzata di Stefi che così dopo andiamo in chiusura prego Stefi buonasera buonasera grazie innanzitutto per i consigli che ci state donando grazie io volevo chiedere una cosa lavoro in una scuola primaria è un bambino di appunto della prima primaria si rifiuta di parlare in inglese per esempio anche semplici domande what's your name oppure how are you oppure se faccio l'appello loro devono semplicemente dire I'm here ma loro ma lui non riesce proprio a parlare le ho provate le ho provate di tutte però non lo so se è timidezza se è paura di sbagliare volevo chiedervi appunto consigli se avete qualche metodo perché ormai siamo quasi a febbraio e lui io non non riesco a valutarlo adesso dal punto di vista del parlato perché ma lui parla in italiano cioè io come entro in classe lui viene da me mi racconta le cose in italiano lui parla a questo blocco per l'inglese quindi ho pensato sicuramente ha paura di sbagliare però io non cioè non tendo ho fatto una riflessione adesso mentre parlava non tendo a correggere molto l'errore anzi sono contenta quando loro cercano di parlare in inglese anche se sbagliano non sto là a puntare il dito e dire no hai sbagliato no assolutamente quindi non so cosa come poter fare con in questa situazione io proverei con la ripetizione cioè magari con lui per un po' vedi come va invece di fare soltanto una domanda al quale lui deve rispondere puoi dargli già la risposta così ripete e poi quando lui prende un po' di conf un po' confidenza no non è quando prende sì 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 dopo un po' dovrebbe riuscire da solo sì scusa Melissa mi viene anche in mente forse anche un po' la timidezza appunto la paura di sbagliare anche dotarlo magari di fogli con parti della frase no e lui te li alza anche se non parla però magari la hai e il suo nome anche solo il farglielo mettere in ordine con i fogli potrebbe essere un inizio ok ci provo ci sono dei giochi che si può fare con le flashcard alzare la flashcard che fanno lui lo fa però non non parla è proprio il parlare lui risponde bene con la flashcard però oppure gli dico dimmela all'orecchio dimmela all'orecchio niente niente allora è una curiosità e con altri compagni parla? in inglese no per esempio loro hanno questa cioè io ho posto questa abitudine per iniziare perché alla scuola dell'infanzia loro non hanno fatto inglese niente 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 e quindi per appunto abituarli gli dico show a classmate and say take your book quindi di prendere il libro di scegliere un compagno di dire prendi il libro che lui non riesce sceglie il compagno quindi dice il nome però non gli dice quello che deve fare è una difficoltà cioè proprio poi anche l'insegnante d'italiano a volte faccio compresenze niente e lei ci sta più tempo comunque la conosce di più niente nemmeno non c'è verso con questo bambino e infatti appunto non demordere no no assolutamente con i giochi con i peluche c'era qualcuno che anche parlava prima di far interagire i i bambini non mi viene in mente la parola però il peluche l'interpersona con gli altri insomma bambini magari lo aiutano a superare insomma questo sfoglio un po' alla volta i puppets grazie 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 o giochi di competizione che non non penso neanche che sia in inglese cioè oppure oppure faccio tanto con i ritmi tipo ripetizioni con i ritmi che è tutto in ritmo e poi viene più spontaneo però è sempre ripetizione perché magari non cioè è proprio bloccato quindi farei così che è molto semplice va bene proviamo grazie grazie a voi grazie mille gentilissima grazie a tutti allora io stavo guardando che era arrivata un'altra da Loretta per raccontare alcune cose che faccio una cosa che faccio dalla classe prima è parlare loro in inglese durante l'arco della giornata in contesti diversi dalle tre ore in inglese accompagno sempre con la mimica la gestualità indicando qualcosa di cui sta parlando quindi utilizzando l'inglese al di fuori della lezione diciamo specifica e c'era chi aveva appunto diceva che di pomeriggio per imparare le direzioni ha detto loro che in inglese mi avrebbero dovuto condurre dalla classe al bagno degli insegnanti dicendomi le direzioni turn left go straight tone and turn right e così via bene io direi che siamo arrivati in fondo c'è chi utilizza i giochi di ruolo insomma brevi e che dire ringrazio sempre teacher per i preziosi consigli grazie a voi per anche i vostri questa volta è stata una grande condivisione oggi da parte di Melissa di open minds con london teacher e tutti voi che ci state seguendo davvero come sempre la condivisione è sempre molto preziosa perché i suggerimenti sono sempre tanti anche dovuti alle vostre grandi esperienze quindi grazie davvero io vi ricordo che questa registrazione sarà presente sul nostro sito quindi ci sarà qualcuno che ci sarà guardando in questo momento in un futuro prossimo scaricate pure i materiali troverete quanto presentato e ovviamente vi aspettiamo al prossimo webinar gratuito grazie ancora e a presto grazie a presto